AAAAAA E insomma... Sdunci dunci 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 Due carabinieri stanno camminando per una strada di campagna Ad un certo punto uno guardando per tre... Una merda! Ma no, è un cioccolettino! Ma no, è una merda! Insomma, l'altro si accuccia, lo assaggia Ma no, è un cioccolettino Però si abbassa anche l'altro, lo assaggia Ma no, è una merda! Lo assaggia ancora Ma no, è un cioccolettino! Ma no, è una merda! Insomma, avrò avanti così finchè lo finiscono tutto A un certo punto guardato fa... Guarda che era un cioccolettino! Ma no, era proprio una merda! Ma te lo dico io che era una merda! Vabbè, intento... Almeno... Non l'abbiamo pestata!